Radioattività con Diego Fusaro, lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Sta circolando incontenibilmente sui social e sui giornali, cartacei e digitali, la foto del miliziano d'Israele che tra le lugubri macerie di Gaza espone orgogliosamente la bandiera arcobaleno. Simbolo dei capricci di consumo individualistici per ceti abbienti di un occidente che ormai è solito scambiare i desideri per diritti e intendere come unica e ultima frontiera della civiltà quella battaglia. La foto fa discutere anzitutto per il contesto, come se i diritti arcobaleno fossero i soli e magari anche giustificassero la distruzione di Gaza, ben rappresentata dalle rovine intorno al miliziano che sorride con ebete euforia, sventolando gaudente la bandiera arcobalenica. Lo stratagemma narrativo, meglio sarebbe dire lo stratagemma ideologico, era già peraltro comparso tale e quale in relazione alla guerra di Ucraina, quando si era parlato dei battaglioni dell'unicorno che difendevano la civiltà dell'arcobaleno contro la perfida russi-omofoba dello zar rosso-bruno Vladimir Putin. Una bieca messa in scena ideologica, anche in quel caso, non v'è dubbio. Buona giusto a fare propaganda a sostegno delle sempre più oscene ragioni dell'imperialismo occidentale. Imperialismo occidentale che genera distruzione ovunque a propria immagine e somiglianza e poi giustifica l'orrore con il policromo vessillo arcobaleno. In questo caso, diciamolo aperti sverbis, la cancel culture diventa la materialissima subcultura della cancellazione delle civiltà altrui a suon di bombardamenti etici, missili democratici ed embarghi terapeutici. La scritta che compare sul vessillo del miliziano israeliano, in The Name of Love, risulta poi a tutti gli effetti tragicomica, come se la distruzione oscena di Gaza e i violenti eccidi venissero compiuti arcobalenicamente in The Name of Love. L'idea che passa è chiara e forte. In nome dell'arcobaleno e dei capricci di consumo individuali, l'Occidente si sente ormai legittimato a compiere ogni genere di nefandezza, peraltro innalzando il vessillo arcobaleno a vertice della libertà e dei diritti. Insomma, all'ipocrisia davvero non vi è limite. Già lo sapevamo e ora ne abbiamo una ulteriore conferma. Diciamolo apertamente, la civiltà occidentale è divenuta luogo della distruzione imperialistica, incapace, com'è, di relazionarsi all'alterità se non nei termini della violenza e dell'occupazione, del colonialismo e dell'aggressione sempre giustificata dietro la sgargiante vernice dell'arcobaleno e dei diritti umani da asporto mediante missili democratici. Ebbene, la civiltà dell'Occidente andrebbe meglio ormai classificata come civiltà dell'Uccidente, dato che la cifra fondamentale dell'Occidente nelle sue relazioni con l'alterità pare già da tempo essere quella della violenza assassina, di chi uccide ma lo fa sempre in nome dell'arcobaleno, di chi genera violenza e distruzione ma lo fa sempre in nome della civiltà, di chi produce morte e miseria ma lo fa sempre in nome di un superiore livello di civiltà, coincidente, sa va sandir, per definizione con quello dell'Occidente. La narrativa stessa, manichea e nient'altro che ideologica, secondo cui vi è da una parte l'Occidente buono e dall'altra i cattivi, che a vario titolo resistono all'Occidente, risulta essa stessa demenziale, fumettistica e caricaturale. E tuttavia è l'ideologia dominante a ogni latitudine nell'Occidente e nella sua autorappresentazione gratificante, quella che, come ricordavo, innalza sempre l'Occidente a civiltà superiore, titolata a difendere le ragioni della civiltà sempre e comunque. Insomma, quando vedete l'arcobaleno, potete già capire cosa vi sia realmente dietro. L'abbiamo detto e lo ripetiamo, l'imperialismo senza anima dell'Occidente. Radioattività con Diego Fusaro